Se siete in attesa dell'anime dedicato a Pokémon Scarratto e Pokémon Violetto, potrebbe esserci una notizia che non vi farà piacere. Infatti a quanto pare, esplorazioni Pokémon o Pokémon Journeys o Pocket Monsters 2019, come preferite, potrebbe continuare più del previsto. Ciao a tutti ragazzi, qui Viglio e bentornati su Pokémon Next. Come sempre, importantissimo per supportarci, ricordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche, perché così sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video. E adesso parliamo dell'anime Pokémon. Nelle ultime ore è stato pubblicato il comunicato ufficiale statunitense riguardante la nuova serie Esplorazioni Pokémon Super, che ormai si avvicina al debutto anche negli Stati Uniti sulla piattaforma Netflix. Ed il comunicato stesso ci ha dato quella che potrebbe essere potenzialmente un'informazione preziosissima per capire come potrebbe evolversi da qui in avanti l'anime Pokémon. Perché stando a quanto riportato, ripeto, dal comunicato ufficiale statunitense, questa serie, la terza serie, la terza stagione di Esplorazioni Pokémon, avrà 54 episodi, approssimativamente. Dunque sono previsti per loro, sulla base delle informazioni che giungono ovviamente dal Giappone, circa 54 episodi, il che porterebbe, sommati a tutti gli altri episodi di Esplorazioni Pokémon normale e Esplorazioni Pokémon Master, a un totale di ben 144 episodi. In Giappone, con la puntata odierna del 23 settembre 2022, siamo arrivati alla puntata 126, e dunque il che significherebbe che mancano davvero tanti episodi prima che questa stagione possa terminare. All'incirca si parla tra i 16 e i 20 episodi, perché poi bisogna considerare anche i recap che abbiamo avuto fino ad ora che potenzialmente non verranno adattati in Occidente e dunque andrebbero esclusi dal conteggio. Sottolineo che da questo conteggio dobbiamo anche eliminare lo speciale dedicato ad Arceus, che proprio oggi è disponibile in Italia su Netflix, ma non sono mai contati come episodi di Esplorazioni Pokémon. Dunque se questo dovesse effettivamente essere veritiero, e non c'è dubbio insomma, siccome il comunicato ufficiale potrebbero aver sbagliato di qualche episodio, magari sono 50, 45, ma è comunque più di quanto immaginiamo e di quanto ci aspettavamo, se dovessero essere confermati 50 o 54 episodi, significerebbe che l'anime di Scarlatto e Violetto dovrebbe iniziare tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Questo sempre ammisso che ci sia effettivamente un distacco tra le due serie, mentre ovviamente se dovesse essere un continuo di Esplorazioni Pokémon, ecco che allora sarebbe un tutt'uno e dunque fondamentalmente non ci sarebbe alcun cambiamento, e dunque si proseguirebbe appunto già magari tra, non lo so, sei episodi. Questo ha spiazzato tantissimi all'interno della community Pokémon, tra cui il sottoscritto. Perché ero convinto che ormai fossimo arrivati all'annuncio dell'anime di Scarlatto e Violetto, ciò non toglie, mi ripeto, che tutto possa essere inglobato in Esplorazioni Pokémon e dunque magari attorno alla puntata 132-133 inizia effettivamente la saga di Scarlatto e Violetto, però a questo punto non dovrebbe essere inclusa in Esplorazioni Pokémon Super in Occidente. Insomma c'è un po' di confusione, talmente tanta confusione che mi risulta difficile anche speculare su quello che ci attenderà effettivamente da qui alle prossime settimane. Non sappiamo se terminerà Esplorazioni Pokémon, non sappiamo se ci sarà un anime di Scarlatto e Violetto e quando inizierà, e anche i film Pokémon sono spariti. Dunque è una situazione un po' strana per l'anime Pokémon, da tenere sott'occhio, non penso sia il caso di allarmarci, nonostante la situazione dell'anime Pokémon sia comunque un po' strana perché negli ultimi episodi ci sono davvero tanti direttori dell'animazione e ciò significa che sono in ritardo sulla programmazione delle puntate. In ogni caso, come sempre, noi copriremo tutte le informazioni che usciranno da qui in avanti, dunque seguiteci per essere sempre aggiornati. Qui da video per oggi è tutto, vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao allenatori!